Palermo vive e condivide la giornata contro la violenza sulle donne, illuminando di rosso il nostro teatro massimo, confermando l'impegno delle istituzioni che deve essere sempre più incisivo a sostegno della libertà, sostegno dell'identità, sostegno della diversità, contro ogni forma di violenza, non soltanto fisica nei confronti delle donne, contro delitti terribili che mortificano l'identità, mandano un messaggio devastante che è la negazione di elementari criteri di convivenza civile, ancora più grave quando vengono consumati all'interno di nuclei familiari o all'interno di falsati e pervertiti rapporti d'amore. L'amore non è e non può mai essere violenza nei confronti della persona umana.